buongiorno a tutti allora come vi dicevo nel video di news in cui abbiamo parlato di casa delle idee walt disney e che cosa c'hanno in pentola per il prossimo anno e mezzo abbondante con dieci bei film che usciranno tra la prossima primavera che arriva adesso oramai è vicina si avvicina metà primavera fine primavera lì quel che è e l'estate dell'anno prossimo ci saranno ben dieci film più o meno e poi bisognerà vedere le uscite perché adesso le date ci sono però poi possono cambiare un attimino variare un attimino però ci sono tutti questi dieci film vi avevo accennato che questo video di news anzi di call news ha tanti tanti argomenti ben cinque la prima il primo argomento riguarda un frutto che io mangio tantissimo il secondo argomento è particolare e riguarda la formazione dei continenti come sonnatico come mai si sono divisi e ci sono tutte queste curiosità è una questione fantascientifica antropologica mettete quello che volete poi parleremo di un attore amatissimo e vi dico solo attore amatissimo non vi dico altro che in coppia con un altro attore che non era un attore ma faceva il nuoto attore è stato un'icona ancora lui ancora un'icona l'altro resta un'icona ma ci ha lasciato ormai e sono già sette anni praticamente prossima estate sono già sette anni che ci ha lasciato e penso abbiate capito di chi stiamo parlando poi parleremo poi parleremo di un un insetto un insetto che è stato da un cantante paragonato che di solito viene paragonato delle persone poco piacenti no che però si dice che piaccia la loro mamma no e parleremo di questo insetto quindi se state per mangiare tenetene conto perché parleremo di questo insettino poco simpatico e poco carino infine una curiosità particolare su che cosa usavano gli antichi romani quando facevano finivano di fare un determinato una determinata cosa dovevano quando la fai devi e non dico altro diciamo che gli ultimi due argomenti non sono adatti se state per mangiare ecco magari il video se state per mangiare o che cosa guardatelo dopo detto questo partiamo subito perché prima cosa ci piace a me piace è un frutto che a me piace ne mangio tantissimo vi faccio anche il video del frutto che acquisto ed è un frutto che mangio tutto l'anno la particolare forma delle banane che durante la crescita si sviluppano in caratteristiche masse pendule dette caschi e che risultano ricchissime di potassio e vitamine del gruppo B deriva da un curioso processo di adattamento al loro habitat primitivo le banane hanno infatti origine nella foresta pluviale dove tra la fitta vegetazione la luce del sole penetra stento e così per riuscire a riceverla in quantità adeguata questi frutti si sono evoluti per sfidare la forza di gravità arrampicandosi messo tra virgolette con tutte le inflorescenze verso la chioma della pianta lo sforzo operato dalle banane per crescere in direzione opposta alla terra puntando verso l'alto fenomeno definito geotropismo negativo opposto a quello positivo tipico delle radici produce appunto la tipica curvatura che contraddistingue questo frutto il quale può peraltro risultare più o meno incurvato e colorato a seconda della varietà a cui appartiene e per questa notiziola ringraziamo focus quindi vi ho detto questa curiosità sulle banane senza lampone eccetera eccetera allora proseguiamo questa è una cosa fantascientifica l'analisi isotopica degli zirconi ottenuti dal testo più antico e meglio conservato il cratone di Pilbara nell'Australia occidentale ha gettato nuova luce sul processo di formazione ed evoluzione dei continenti sebbene varie indagini geologiche abbiano mostrato l'esistenza di diversi supercontinenti durante la formazione del nostro pianeta circa 4,5 miliardi di anni fa poco si sa sui processi che li hanno originati e sul modo in cui si sono evoluti nel tempo in questo contesto un nuovo studio suggerisce che i primi ammassi continentali sono emersi in aree colpite da giganteschi meteoriti durante il primo miliardo degli anni della Terra quindi non sempre i meteoriti mi fanno sparire i dinosauri questa volta hanno fatto in modo che spuntassero terre gli scienziati della School of Art and Planetary Science della Curtin University in Australia hanno analizzato campioni del cratere Pilbara nell'Australia occidentale considerato il residuo meglio conservato dell'antica crosta terrestre si stima che la sua formazione sia avvenuta tra 4.000 e 2.500 milioni di anni fa minchia alla faccia del bicarbonato di sodio come direbbe il buon Totò pensate 4.000 milioni di anni fa tra 4.000 milioni e 2.500 milioni i dinosauri sono vissuti tra 130 e 65 milioni pensate quanto meglio che non ci penso dopo aver studiato la composizione degli isotopi di ossigeno di minuscoli cristalli di zircone gli esperti sono stati in grado di identificare tre fasi nella formazione del cratone lo studio della composizione di questi cristalli ha rivelato un processo top down che è iniziato con lo scioglimento delle rocce vicino alla superficie ed è andato più in profondità il che è coerente con i processi geologici previsti dopo l'impatto di meteoriti giganti ha spiegato Tim Johnson coatore dello studio un meteorite gigante caduto sulla terra potrebbe aver formato i continenti i risultati ottenuti recentemente pubblicati dalla rivista Nature suggeriscono che l'impatto di un meteorite gigante avvenuto 3,6 miliardi di anni fa ha innescato un massiglio scioglimento del mantello terrestre producendo uno spesso nucleo di silicato ricco di manesio e ferro insieme a rocce ultra basiche Gli zirconi del secondo stadio di formazione hanno avuto origine tra 3.400 e 3.000 anni fa periodo in cui secondo ricerche precedenti la terra fu colpita da numerosi meteoriti massici penso che sia tra 3.400 e 3.000 milioni di anni fa perché se no 3.400 anni fa c'erano già gli egizi schiattavamo tutti inoltre minerali studiati cristallizzati dai magmi progenitori si sono formati vicino alla base del nucleo continentale in evoluzione il fatto che le rocce pelsiche più antiche si siano formate tra 3,9 e 3,5 miliardi di anni fa verso la fine del cosiddetto Late Heavy Bombardment un periodo caratterizzato dal gran numero di massicci asteroidi che si scontraverono con i pianeti più vicini al Sole non è una coincidenza scrivono gli autori dello studio sui minerali associati alla prima fase di formazione la nostra ricerca fornisce la prima prova evidente che i processi che alla fine hanno formato i continenti sono iniziati con impatti di meteoriti giganti simili a quelli responsabili dell'estinzione dei dinosauri ma verificatesi miliardi di anni prima ha concluso Johnson d'altronde tra miliardi e mezzo di anni fa non c'era nessuno sulla Terra quindi potevamo fare tutti i disastri che volevano e non succedeva niente non moriva nessuno si evolveva la Terra c'era un movimento di terreni che andavano a destra a sinistra al centro eccetera eccetera magari c'era la Pangea tutta attaccata poi ha iniziato a dividersi quindi acqua un po' da una parte un po' dall'altra che con la Terra che si divideva e quindi poi sono cominciate ad arrivare le creature e quant'altro poi purtroppo quando sono precipitate c'erano delle creature ahimè quasi tutte sono però poi si sono ne sono arrivate di nuove eccetera eccetera quelle che si sono salvate si sono evolute a loro voli ma è difficile fare ripeto fare il paleontologo fare l'archeologo eccetera perché ti basi su quello che trovi ma non sai quello che trovi quando è stato quando c'era che cosa è successo che cosa non è giusto fai delle ipotesi perché da delle ossa fai a sapere com'era la pelle del dinosauro noi pensiamo sempre al tirannosauro con la pelle scura marroncino scuro eccetera eccetera tirano in Ryu lo facevano a parte che un tirannosauro nel periodo in cui c'erano i primi primitivi non si può vedere perché era estinto da milioni e milioni di anni i primi Neandertal o quelli antecedenti si parla di 80 mila anni fa quindi Ryu poteva essere fatto 80 mila anni fa non un milione o due milioni tre milioni di anni fa col tirano con l'occhio solo che vabbè lasciamo perdere andiamo avanti ragasoli perché dobbiamo parlare di questo attore Terence Hill è forse l'attore italiano più amato da tutte le generazioni dalla X alla Z io direi dalla A alla Z però sapete c'è la generazione X poi leggevo che io non sono ibrido perché chi è nato prima degli anni sessanta fino a metà anni sessanta indietro 40 a metà anni sessanta sono il boomer 81-96 sono la generazione X o quello che è quelli che sono nati dal 68 come me all'86 o dall'81 all'81 noi siamo ibridi non c'entriamo niente vabbè so ibrido lasciamo perdere comunque proseguiamo l'attore dal talento immenso e da una capacità unica di interpretare qualsiasi ruolo ha conosciuto il sapore del successo già all'età di 12 anni quando nel lontano 1951 è stato protagonista in vacanza col gangster regia di Dino Risi fecero seguito tanti ruoli da protagonista e pellicole di successo quale Cartagine in fiamme Giuseppe venduto dai fratelli il gatto pardo e la ferma rescialla Rita fugge lui corre egli scappa sotto il nome di Terence Hill invece sono arrivati i film intramontabili quelli che non ci si stanca mai di guardare da Dio perdona io no a il mio nome è Thomas passando per il mio nome è nessuno e Don Matteo naturalmente Terence Hill grazie alla sua popolarità stando a quanto pubblicato da People with Money rientra nella top 10 degli attori più pagati nel 2022 con un fatturato stimato di 58 milioni di dollari minchia ma quanto guadagna davvero il celebre attore protagonista della fiction Don Matteo come abbiamo già avuto modo di anticipare uno degli attori più pagati al mondo e grazie ai suoi sorprendenti guadagni è considerata anche un po' più un po' di più dei più ricchi si parla di 58 milioni di dollari guadagnati soltanto in un anno ovvero dal marzo 2021 al marzo 2022 il suo patrimonio netto ammonterebbe a 185 milioni di dollari visto che nel corso del tempo l'attore ha fatto anche degli investimenti che si sono rivelati del tutto fortunati ma non finisce qui visto che Terence Hill possiede anche dei ristoranti e nello specifico la catena le pizze di papà Terence a Roma stessa città dove gioca la sua squadra del cuore a magica in questi anni ha lanciato anche un marchio di vodka ovvero pure Wonder Hill Italia e pare che si sia ancora avvicinato al mercato dei profumi a quello del caffè Terence Hill caffè disponibile sia in grani che macinato quindi ragazzoli complimenti al bravo Terenzio però purtroppo non li potrà portare lassù al suo amico Bad però beati quelli che saranno i suoi eredi perché se non fanno i babbacchioni possono campare di rendita per i prossimi tre, quattro, cinque, sei generazioni eccetera 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 andiamo alla terza notizia che riguarda perché dobbiamo sempre portare sfiga che cosa succederebbe se ci fosse un disastro nucleare sulla terra chi sopravvive uno dei tormentoni più ricorrenti nella narrativa post apocalittica quella che si immagina come cambierebbe il mondo dopo un disastro nucleare o qualcosa di altrettanto distruttivo è il fatto che non importa cosa succeda alla terra gli scarafaggi comunque sopravviveranno e un giorno diventeranno i veri dominatori del pianeta un'ipotesi fantasiosa ma non troppo basta pensare a quello che è successo circa 65 milioni di anni fa un meteorite atterrò nello Yucatan provocando una serie di disastri a catena che portarono tra le altre cose all'estinzione di quasi tutti i dinosauri un evento catastrofico al quale gli scarafaggi sono sopravvissuti senza troppi problemi ma come hanno fatto? alla domanda ha risposto Brian Lovett ricercatore della West Virginia University su The Conversation La risposta breve alla domanda perché disonnosauri no agli scarafaggi sì è che questi insetti il pezzo non fa riservimento a specie particolari ma all'intero ordine blattodea sembrano costruiti apposta per sopravvivere ai venti apocalittici innanzitutto perché sono piatti il fatto che il loro corpo abbia questa forma permette loro di strizzarsi in spazi molto stretti e dunque di nascondersi più o meno ovunque l'impatto del meteorite Cixxulub di cui vi ho parlato anche qualche video fa provocò tra le altre cose un rapidissimo aumento delle temperature globali potendosi infilare nelle crepe del suolo in altri spazi angusti che forniscono una buona produzione dal calore gli scarafaggi sopportano questo sbalzo termico e sopravvissero senza fatica anche a quello successivo l'impatto del meteorite sollivò immense quantità di polvere che rimanendo sospese in atmosfera affievolirono la luce del sole portando quindi a un crollo delle temperature e a una moria di animali e soprattutto piante un problema per moltissimi esseri vivimenti ma non per gli scarafaggi che sono perfettamente onnivori e si nutrono di qualsiasi cosa trovino anche di escrementi in caso di necessità infine gli scarafaggi hanno sviluppato hanno anche sviluppato un'altra strategia di sopravvivenza depongono le uova in strutture chiamate ooteche che sono dure e resistenti e proteggono il loro contenuto da danni di ogni genere l'ove spiega che oggi esistono circa 4.000 specie di scarafaggi nel mondo e che vivono più o meno ovunque dai poli ai tropici la loro estrema resistenza può anche trasformarli in un problema per noi esseri umani perché alcune specie sono infestanti e molto difficili da sradicare data parte se non è riuscito a sterminarli le austerodie che ha fatto distinguere i dinosauri perché dovremmo riuscirci noi però ci proviamo perché lo scarrafone è fastidioso e quindi meno c'è meglio è concludiamo ragazzoli con un'altra cosa abbastanza schifosa ma normalissima perché purtroppo ci andiamo tutti almeno una volta al giorno almeno noi maschi almeno una volta al giorno a fare una doppia pu andiamo le donne magari come racconta il buon Pucci ci mettono ci vanno una volta ogni 3-4 giorni fanno tre pallini come mi sento libero hanno fatto tre palline noi facciamo dei dirigibili marroni senza elica e timone vabbè lasciamo perdere perché magari state anche mangiando e vi faccio passare la fame comunque non era ancora stata inventata la carta igienica ma gli antichi romani sapevano come pulirsi alla toilette secondo diversi studiosi al posto della carta nei camminetti dell'antica Roma si utilizzava un particolare utensile igienico chiamate tersorium tersorium si trattava di una spugna marina infilata su di un bastone che veniva condivisa da chi utilizzava la latrina pubblica l'attrezzo che era utilizzato anche come scopino veniva poi pulito in un secchio con acqua e aceto con buona pace dell'igiene poiché un simile trattamento non serviva di certo a sanificare lo strumento al posto della spugna i soldati romani a volte utilizzavano anche il muschio che però per fortuna era usa e getta proprio un tersorium viene menzionato da Seneca il filosofo romano in una lettera delle epistulae Morales ad Lucium 62 65 penso Seneca dovrebbe essere adesso mi fermo un attimo perché non vorrei dire una stupidata 62 65 dopo Cristo anche perché è morto proprio ha scritto questa cosa qui e poi è morto perché c'è scritto che è nato il 5 avanti Cristo quindi era bimbo quando hanno crocefisso nostro signore ed è morto nel 65 dopo Cristo a 70 anni più o meno racconta che all'inizio del primo secolo un gladiatore germanico usò questo attrezzo per suicidarsi e non credo che sia stato il massimo comunque adesso vi spiego come essere suicidato mi auguro che non abbiate un conato perché veramente al pensiero di quello che ha fatto io sinceramente magari anche no rimasto finalmente solo e senza sorveglianza per andare in bagno prima di un'esibizione in anfiteatro la usò come lancia infilandosela in gola fino a soffocare oggi si trova un tersorium raffigurato nelle terme dei sette sapienti a Ostia l'antico porto di Roma in un affresco del secondo secolo allora ringraziamo Focus per averci data questa notizia ma io sinceramente il pensiero è che questo abbia preso questa cosa qua che usavano per pulirsi dopo aver fatto i bisogni se lo si è messo in bocca per soffocarsi e suicidarsi in stile spada sinceramente per me è morto ma è meglio che non ci pensi cioè veramente ma un altro modo per suicidarti non c'era vabbè comunque lo racconta Seneca quindi è probabile che sia anche vero però sinceramente infilarmi una anche no anche no una pastiglietta o i babbiturici ho preso i babbob ho preso i babbiturici vabbè ragazzoli le ultime due nutrizie erano un po' schifosette spero che non vi siano venuti conati di vomito o roba simile io vi ho avvisato prima del video di guardarlo fuori dall'orario dei pasti perché visto gli ultimi due argomenti riguardavano gli scarrafoni o scarrafone e come ci si puliva le terga anzi come si pulivano le terga agli antichi romani visto che non c'era la cartigenica magari se uno stava mangiando che cosa gli passa la fame detto questo mi sono dilungato troppo ci vediamo alla prossima ciao